No, ma a pagina 42 circa del copione, dove io abbasso gli occhi vergognosamente, ben levati dai piedi! Non possiamo tornare sul palcoscenico, per favore, levati di mezzo, per favore, levati di... Laura, potresti per favore levarti dai piedi! Che strano, perché non hai chiuso la chiave? Ma io la chiudo sempre a casa. A casa mia abbiamo la stessa serratura, certe volte funziona, certe volte no, adesso sì, adesso no. No, insomma, uno non sa mai cosa succederà. Oh, ok, non mi sembra che manchi. Ma perché dovrebbe mancare qualcosa? Beh, non ne ho idea, dico bene? Senta, io le volevo parlare delle mie battute e non le so ancora molto bene. Arrivati a questo punto non sai ancora le tue battute, non voglio nemmeno parlarne! No, non voglio nemmeno parlarne in questo momento. Lora, mi stai facendo nervosire? Devo farle vedere una cosa sul palco. Sai che cosa penso? Penso che tu abbia lavorato con molto impegno, troppo duramente, e adesso hai bisogno di rilassarti. Devi prenderti un po' di riposo questo fine settimana, capisci? Non mi sono mai rilassata prima d'ora, non vedo perché dovrei farlo. Secondo me dovresti, penso proprio che dovresti.